Il Teatro Reggio è un teatro dalla grande tradizione che sviluppa un progetto importante, denso di attività che si svolgono nel corso di tutto l'anno, ma articolato in due grandi momenti. Il primo è quello della stagione invernale che debutta da tradizione il giorno che precede Sant'Ilario, il patrono della città, e finisce ai primi di giugno. In questi sei mesi il Teatro Reggio organizza una stagione lirica, una stagione di danza, di ospitalità di grandi compagnie, una stagione concertistica di musica da camera e una stagione dedicata ai bambini che si chiama Reggio Young. È un'iniziativa questa di cui andiamo particolarmente fieri, si tratta di un cartellone pieno di appuntamenti, molto diversi tra loro, che cerca di abbracciare tutte le fasce anagrafiche dei bambini, addirittura da meno nove con un evento dedicato alle bambine attese fino ai 14 anni, e che in questi anni ha guadagnato un pubblico sempre in crescita, che per noi è particolarmente significativo anche in termini di una prospettiva futura del teatro. Oltre a questo il Reggio sviluppa un progetto sociale importante, si rivolge a comunità fragili, a comunità tra le quali includiamo gli ipovedenti e gli ipoudenti, ma svolge attività anche nelle carceri, svolge attività negli ospedali, porta la musica anche in quei luoghi abitati da persone che non possono raggiungerci nella nostra casa. Il teatro Reggio sviluppa anche una serie di attività che si basano sulle competenze che i lavoratori hanno acquisito anche in questi ultimi anni, e che ci permettono di offrire formazione alle aziende. È una dimensione abbastanza innovativa, importante, perché le aziende che sostengono il teatro per l'attività sono tante, e stiamo cercando di sviluppare dei progetti che ci aiutino ad essere in comunicazione, in contatto continuo con queste aziende, anche in una dimensione rovesciata, vorrei dire, in cui le aziende sostengono il teatro, ma poi anche imparano dal teatro. Il secondo grande momento è quello autunnale, il Festival Verdi che debutta ogni anno l'ultimo weekend di settembre e continua per le quattro settimane successive, concludendo il proprio percorso nel terzo weekend del mese di ottobre. È un festival monografico, naturalmente dedicato a Giuseppe Verdi, che si svolge a Parma, ma anche in un territorio circostante, che prevede opere qui al Teatro Reggio, opere in uno spazio terzo che negli ultimi anni ha visto il Teatro Reggio allestire spettacoli al Teatro Farnese, alla Chiesa di San Francesco, che è un magnifico spazio monumentale in fase di restauro, e poi ogni anno un allestimento trova a casa nel Teatro Verdi di Bussetto. Quindi è un festival che territorialmente abbraccia le cosiddette terre verdiane, non solo con il cartellone istituzionale, ma anche con una rassegna parallela, che prende il nome di Verdi Off, che ha lo scopo di portare la musica in luoghi non consueti, di portare la musica verdiana fuori dalle mura degli spazi istituzionali. È un cartellone che prevede quasi 100 eventi ogni anno, eventi tutti gratuiti per il pubblico, eventi dal sapore innovativo. L'anno scorso, per esempio, abbiamo inaugurato questa rassegna di Verdi Off con la Verdi Street Parade, che ha coinvolto più di 1300 artisti e più di 2500 spettatori, e che si è conclusa con un bellissimo vapensiero cantato in una piazza d'uomo magica, gremita e davvero molto affascinante. La manifestazione Festival Verdi è una manifestazione internazionale, con numeri straordinari in crescita continua negli ultimi anni, che vede il riconoscimento della stampa internazionale con le maggiori testate che inviano i loro critici a recensire gli spettacoli del Festival, ma che conta anche tra il pubblico una percentuale molto importante, oltre il 40% di stranieri, e oltre il 65% di spettatori che vengono appositamente per il Festival da fuori Parma. Questo complice è un cartellone che facilita la permanenza di questo pubblico, perché mettiamo in scena quattro titoli in quattro giorni in tre luoghi diversi. Ma la comunità internazionale è fatta, come dicevamo, di stampa, è fatta di pubblico, ma è fatta anche di friends. Che cosa sono i friends? Sono un'associazione con base a New York, un'associazione di appassionati, che hanno deciso di sostenere concretamente il Festival e che poi condividono, venendo qui a Parma o accogliendoci per degli eventi speciali che organizziamo a cadenza annuale a New York, il core business della nostra istituzione e quindi la diffusione della musica verdiana, il progetto di valorizzazione di questa musica per il tramite anche di una lettura rigorosa dal punto di vista musicale delle partiture verdiane in edizione critica. Il Festival naturalmente ci mette davanti a uno sforzo produttivo molto importante. Queste quattro produzioni sono tutti gli anni delle nuove produzioni e riusciamo a realizzare il progetto grazie a delle maestranze altamente qualificate che lavorano nei nostri laboratori. Il Teatro Reggio di Parma è uno dei pochi teatri ormai che ha mantenuto viva la dimensione dei laboratori, di scenotecnica, di scenografia, di costruzioni, di attrezzeria, di sartoria teatrale. Abbiamo un patrimonio di allestimenti storici molto importante e continuiamo a realizzare in casa tutte le produzioni del Festival Verdi. È un dato non secondario di cui andiamo particolarmente orgogliosi. Grazie. Grazie. Grazie.